Buonasera, ben trovati a questo appuntamento di Focus Tg. Parliamo della vicenda di Ponte di Nanto quando ci fu la sparatoria dove Graziano Stacchio intervenne e uccise il bandito che stava facendo la rapina. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapinatore deve scontare una pena a 10 anni e Stacchio ha detto che sono stati clementi. 9 anni e 10 mesi, la Corte di Cassazione conferma la condanna a Oreste Derlesi, uno dei componenti della banda che nel febbraio del 2015 assaltò la gioielleria Zancana a Ponte di Nanto, trasformandola via in un far west. Una sentenza che mette la parola a fine di una vicenda che aveva visto finire sul banco degli imputati Graziano Stacchio, il benzinaio che spara ed uccise uno dei banditi, e lo stesso gioiellerio Roberto Zancana. 10 anni scarsi, una sentenza che lascia comunque la mare in bocca nelle parole dello stesso benzinaio. Io dico che sono stati anche clementi, può ritenersi anche fortunato che è lì ancora vivo, perché ci rendiamo conto che mi ha sparato due volte, e io per due volte ci sono messo in difesa, perché si allontanassero, perché andassero via. E aggiunge. Quando uno prende un'arma impropria, per me è già un assassino, è già una persona che è pericolosa, è già una persona che dovrà essere condannata, ma non per il tentato furto, il tentato rapina, ma no perché hanno abbandonato il loro compagno, ma neanche perché praticamente tutte le... ma solo per l'arma? Lo sa bene lui, ex alpino d'assalto da 54 anni col porto d'armi, che non teme di ritrovarsi un giorno di fronte allo stesso bandito. Se viene qua a prendere il conto, gli potrò fare il rifornimento, gli potrò spulire il vetro, gonfiargli le gomme, ma io penso che avrà molto tempo da meditare e da pensare. E se oggi al posto della gioielleria c'è un ristorante cinese, il suo modo di agire non cambierebbe. Quando c'è in gioco la vita degli altri, va difesa. Quindi insomma lo rifarebbe? Lo rifarei forse anche con un po' di più cattiveria. Benché la Lega abbia ritirato l'emendamento, si continua a parlare di castrazione e chimica e i veneti sono divisi. La castrazione è anche possibile, purché sia abbinata ai 10, 15, 20 anni di carcere, allora funziona. Se parliamo di stupri e cose di questo tipo, assolutamente, carcere e castrazione chimica, anche perché certe cose non le correggi, penso. Le pene corporali non sono la soluzione, credo, in uno stato di diritto. Tendenzialmente sarà il contrario. Bisognerebbe trovare un metodo per evitare che chi ha questo tipo di predisposizione, ripeta più e più volte il reato. Ci sono altri sistemi, penso, che è la castrazione chimica. Non penso, non sono d'accordo, assolutamente. Meglio altre alternative, ma quello non ci sta, non sta in cielo o in terra. È giusto punire, ma è un po' troppo esagerata. Personalmente non sono mai per gli estremi, però bisognerebbe trovare una soluzione, soprattutto garantendo una pena certa per chi commette certi reati. E poi tutto alla fine ruota su questo, la certezza della pena. E quando manca la certezza della pena, allora sì che c'è la gente che chiede gli estremi. Questo è il problema essenziale, naturalmente, della percezione della giustizia in Italia. Parliamo di sgomberi, sgomberi, diciamo così, anche mediatici, quella dell'ex Casa dello Studente a Padova, che deve diventare la scuola galileiana, solo che va a toccare un punto politico, diciamo così, di lunga tradizione e di lunga polemica. Dopo decenni di abbandono, l'università ha deciso di rimettere le mani sulla messa a Marzolo. L'ha chiusa, l'ha lasciata a Marzolo per anni. Il blitz delle forze dell'ordine scatta all'alba, quando all'interno dell'edificio non c'è nessuno e gli occupanti sono così colti di sorpresa. Lo stabile in via Marzolo, zona degli istituti universitari, è di proprietà dell'università, ma da cinque anni era occupato da un gruppo di studenti, ex militanti del collettivo Gramigna. Per la Casa dello Studente Fusinato, conosciuta da tutti come ex Mesa Marzolo, l'Ateneo pensa a un futuro ambizioso. Investendo 11 milioni diventerà la scuola galileiana di studi superiori, una specie di normale di Pisa, con 187 posti letto, laboratori, palestra e sale studio. Ecco perché l'università vuole tornarne in possesso, ingente lo spiegamento di forze dell'ordine. La strada viene sbarrata con i mezzi di polizia e carabinieri e poi presidiata da uomini in assetto antisommossa e dalle unità cinofile. Nessuno può passare, all'interno solo operai e camion per lo sgombero degli oggetti trovati. Tra l'altro, in serata, era prevista una festa, tesi molti giovani e in programma musica. I militanti del collettivo non ci stanno, reagiscono con rabbia, in pochi minuti si riuniscono davanti al cordone di sicurezza, appendono uno striscione e ripetono slogan contro le istituzioni, ma non si va oltre. Polizia e carabinieri mostrano i muscoli, anche se non c'è bisogno di usarli. Impossibile per i giovani, una trentina, anche solo ipotizzare di forzare il blocco. A metà mattinata annunciano un'assemblea pubblica in piazza Portello per il pomeriggio. Poi gli animi si scaldano e parte un corteo per le strade del quartiere, prima di riunirsi nuovamente davanti all'edificio. Intanto gli operai chiudono gli ingressi e caricano sui camion gli oggetti trovati, che vengono trasferiti in un magazzino dell'università. Sembra che ci siano anche impianti audio piuttosto costosi. Gli occupanti proveranno a chiederne la restituzione. Intanto un'indagine del provveditorato sta cercando di fare luce per quello che di sua competenza sulla professoressa, che ha aggredito le forze dell'ordine, i poliziotti, durante la manifestazione di venerdì. Le procedure sono state avviate. È iniziata l'indagine interna annunciata dal provveditore agli studi di Padova sulla professoressa dell'Istituto Alberti, denunciata durante gli scontri avvenuti venerdì sera a Padova tra forze dell'ordine e militanti dei centri sociali che stavano contestando il corteo di estrema destra contro l'aborto. Maria Giacchi, trentenne, docente precaria di matematica, attivista del collettivo politico Gramigna, è accusata di aver sputato e preso a calce alcuni agenti durante i momenti concitati delle due cariche in via Oberdan tra il comune e il caffè Pedrocchi. Il provveditore agli studi, Roberto Natale, ha già chiesto agli inquirenti tutta la documentazione per valutare il comportamento tenuto dall'insegnante al di fuori del contesto lavorativo. Nelle scorse ore, inoltre, ha già incontrato i componenti degli uffici disciplinari per la presa in carico del caso. Esiste un codice di comportamento per tutti i dipendenti pubblici che riguarda non solo la sfera professionale, ma anche la loro vita sociale, ci spiega il provveditore. In questo caso, la docente ha un ruolo educativo e deve essere educatore sempre, anche nella sua vita sociale. Alla professoressa Giacchi, dunque, non si contesta il fatto che abbia manifestato. Manifestare è un diritto sancito dalla Costituzione, ma le modalità con cui lo ha fatto. Se i calci e i pugni e i poliziotti venissero confermate dalle indagini, la docente rischierebbe una sanzione disciplinare che va dalla semplice censura al ben più grave licenziamento, come nel caso della professoressa di Torino, allontanata dalla scuola dopo aver augurato la morte agli agenti durante una manifestazione. La vicenda che vede l'inchiesta sulla gestione dei migranti, tra cui naturalmente anche Bagnoli di sopra, con indagato l'ex vice prefetto e la cooperativa Ecofficina. Documenti ritoccati per partecipare ad una gara, ma soprattutto informazioni che non dovevano essere rivelate. È partita da qui l'inchiesta sui presunti favori tra la prefettura di Padova e la cooperativa ed Eco Ecofficina durante il periodo dell'emergenza profughi. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiuso le indagini sulle irregolarità nella gestione delle strutture per migranti in città tra il 2015 e il 2017. Otto le persone che risultano indagate, tra queste l'ex prefetto vicario Pasquale Aversa, il vice prefetto Alessandro Sallusto, la funzionaria Patrizia Quintario e i vertici della cooperativa Simone Borire, la moglie Sara Felpati e il socio Gaetano Battocchio. I reati contestati sono quelli di concorso in turbativa d'asta aggravata e continuata, rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, tentata truffa, induzione in debita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio e falso. Coinvolti nell'indagine anche altri due dipendenti della COP che si sarebbero prestati a certificare documenti falsi per salvare la cooperativa da accertamenti. Lo scandalo emerse l'estate dello scorso anno quando giunse l'avviso di garanzia al prefetto vicario Aversa, poi trasferito a Gioia Tauro, comune sciolto per mafia. Da qui si scoprì una serie di presunti illeciti legati alla gestione prima dell'ex caserma Prandina Padova, dove vennero ospitati più di 500 profughi e poi al lab di Bagnoli recentemente chiuso. Entrambe le due strutture d'accoglienza erano gestite dalla cooperativa ed eco ex eco-officine. Agli atti dell'inchiesta risultano alcune telefonate in cui si rivelava l'arrivo di ispezioni nei centri, oppure in un caso la funzionaria Quintario informava i vertici della Coop dell'esito di un incontro tra l'allora prefetto Patrizia Impresa e il Ministero. La funzionaria, inoltre indagata per il reato di induzione a dare e utilità, in pratica la figlia della donna sarebbe stata assunta da eco-officine in cambio dei suoi favori. Inoltre vengono contestati due bandi da 20.000 euro ritenuti formulati ad hoc perché ed eco potesse aggiudicarsi la gara e c'è anche l'ipotesi di truffa, dato che la stessa cooperativa avrebbe retrodatato un documento per partecipare ad una gara indetta dal comune di Due Carrare. Subito dopo la pausa parleremo di maltempo.